Mi sa che possiamo dire Dio alla Lega delle squadre, infatti sto parlando proprio di questa qui E' quasi sicuro al 100% che questa mappa, che questa funzionalità, che questo modo di far funzionare il gioco ci abbandonerà per sempre Probabilmente già dai prossimi aggiornamenti vedremo dei cambiamenti assurdi E nel video di oggi vi spiego perché, vi mostro le prove, vi dirò quello che ha detto Paola Però per iniziare vi chiedo sempre solo una cosa, like, iscrizione e campanile che per voi sono gratis ma per me fondamentali per fare altri video Quindi grazie, grazie davvero un sacco a chi mi supporta Ma eccoci qui, sappiamo tutti come funziona il carissimo Squad Busters Io nel frattempo ho detto pure qua un po' di invidi perché la pignatta è tornata e ne possiamo già aprire una Eccola qua la nostra pignattina 1700 monete, un ticket, 10 ticket, ma ragazzi che schifo, che scam, va bene, va bene, ok, ok, ok Dal negozio 44 Energon che ce li prendiamo, due arcerine pure vanno più che bene, per il resto nient'altro Come sappiamo ragazzi esiste la Lega delle squadre, ma qual è il problema principale della Lega delle squadre? Qual è il problema principale, oltre ad alcune cose del gameplay che lo rendono noioso Squad Busters? Qual è il problema principale proprio del gioco, dell'economia, dell'avanzamento all'interno di Squad Busters? Il problema principale, detto pure dagli sviluppatori, se ne sono accorti tutti, lo sanno tutti che questo è un problema molto grave Cioè che ogni volta che arriva un aggiornamento, quindi vi faccio l'esempio che tra 20 giorni praticamente arriva il nuovo aggiornamento di Squad Busters Arriverà anche la nuova mappa, che verrà aggiunta da livello 150 a livello 180, si aggiungeranno 30 livelli Il problema principale è che tutti quelli che sono nella Lega delle squadre, quindi tutti quelli che sono in top, tutti quanti Verranno automaticamente mandati indietro, fino a livello 150 dovranno rifarsi altri 30 livelli E poi potranno di nuovo giocare alla Lega delle squadre E questo, magari, per un player che gioca tanto, è irrilevante Faccio l'esempio, non so adesso chi è il primo Alex, super salvo loro Se dovessero ricevere un reset, amen Cioè, di tutti questi qua che sono in top globale, ragazzi Giocano in una settimana, già sono tornati Ma un player un pochino più casual, che ci ha messo tanto impegno per arrivare alla Lega delle squadre E magari il mese prossimo non ci gioca, perché non so, ha qualche impegno Ragazzi, se tu non giochi una season, o meglio, un aggiornamento Se tu ti perdi un aggiornamento di Squadbusters, tu puoi buttare via il tuo account Vi faccio l'esempio, un player durante l'estate non gioca a Squadbusters Si skippa ben 60 livelli, ragazzi, perché passano due aggiornamenti Se tu skippi già 60 livelli, tu puoi buttare il tuo account Perché prima che recuperi tutti i 60 livelli, nel frattempo si aggiungono altri livelli E dovrai recuperarne 90 di livelli, 120 e così via Diventa un gameplay insostenibile e alla fin dei conti al player non lo fai mai arrivare alla Lega delle squadre Non puoi mai fargli giocare le coppe, non puoi mai fargli giocare una modalità competitiva E perché in molti vogliono giocare la modalità competitiva, la modalità con le coppe? Perché innanzitutto, tutti hanno lo stesso deck Abbiamo ogni 10 minuti lo stesso pool, lo stesso deck Che è una cosa molto strategica E poi si gioca in modo più professionale, si gioca in modo diverso rispetto alle partite casual Quindi, è ovvio ragazzi, è ovvio che qua cambieranno le cose L'ha detto pure Paola, che la Lega delle squadre, ora come ora, è sbagliatissima Il fatto che venga sempre resettata è pessima E probabilmente creeranno due cose separate Adesso prendo il mio telefono e vi vado a leggere quello che ha detto Paola Infatti Paola, nella ultima live, perché lei ha fatto una live mentre giocava a Squadbusters Con un aggiornamento dove parlava, discuteva, faceva vedere delle cose importanti E dice A Paola è stato chiesto durante la sua live Se apporteranno le tanto desiderate modifiche al campionato delle squadre Questo qui, alla Lega delle squadre Le ha risposto che sappiamo tutti che non è un gran sistema E che è un peccato che dopo ogni aggiornamento ti butta fuori dalla Lega delle squadre Quindi il team ha notato che è un problema e stanno facendo il possibile per migliorarlo Si sono già resi conto che questo sistema non funziona e cambierà presto Attenzione Ma non si sa ancora quanto tempo ci vorrà Abbiate pazienza Queste sono al momento le uniche notizie che abbiamo Ma ora io vi farò vedere una cosa importante Perché probabilmente già, già potremmo avere un'intuizione di quello che succederà Perché io in primis dico che questo funzionamento è bruttissimo A parer mio la modalità competitiva e la modalità normale dove scali Dovrebbero essere due modalità separate Un po' come su Clash Royale che c'è la modalità con le coppe E la modalità un pochino più casual O un po' come c'era su Clash Mini durante le prime stagioni Lo stile è quello là Pure raga come su Brawl Stars Alla fine su Brawl c'è la modalità con le coppe E poi c'è la modalità classificata, la modalità competitiva, le ranked Al gioco serve qualcosa che distingua Perché io ad esempio su Brawl non sono un player a cui ama giocare le ranked Preferisco scalare le coppe Se magari qualcuno ragazzi non gliene frega niente di avanzare nella lega delle squadre Non gli interessa arrivare né primo di coppe né avere cose in più Vuole solamente andare avanti nel cammino dell'elisire Nel cammino del portale, quello classico E magari si porta pure avanti per quando aggiungeranno altri mondi Quindi ragazzi c'è un problema di base che deve essere sistemato Io ora vi mostro una cosa assurda Ma prima ditemi nei commenti a che livello siete Dove vi trovate se siete già nella lega delle squadre Oppure se siete nel cammino del portale dei mondi Che cambiano sempre nome a sti cosi Va bene, ora vi mostro che durante la primissima beta di Squadbusters Io lo torno sempre a dire perché nella beta questo gioco era fatto meglio di adesso Non si sa perché hanno peggiorato le cose Durante la beta c'era una cosa interessante C'era l'avanzata dei mondi E poi a parte la modalità classificata Ora cerco di trovare un'immagine e ve la mostro Eccoci nel mio canale youtube Dovrei avere qualche video qua Vi ricordo ragazzi iscrivetevi che manca poco ai 300.000 iscritti Non è vero, però ce la possiamo fare Se andiamo sulle playlist Squadbusters Ecco qua Mamma mia quanti video che ho fatto ragazzi Cioè ok E se andiamo su una delle prime beta forse qua Ecco qua Il buon e caro vecchio Kirri Ci soddisfa con un video a dir poco assurdo Quello lì ero io raga un anno fa, un anno e mezzo fa Ci assomigliamo un pochino, ci assomigliamo Sì siamo molto simili Infatti sono io Però come vedete ragazzi Il gameplay era un'altra cosa L'interfaccia utente era bellissima Io mi chiedo perché hanno rimosso questo Quanto era bella questa icona, profilo Magari la potevi pure cambiare Ma pure queste interfacce con lo shop, quest, missioni, squad Erano fatte benissimo Tralacciando che qua potevi già cambiare le modalità E questa è una cosa in più Quindi al tempo si stavano Poi abbiamo alcune valute Le gemme ragazzi Diamanti, si chiamavano diamanti questi Poi i ticket, tabelli I ticket li hanno raggiunti Come vedete Quello che voglio farvi vedere io Eccoci qua Desert World Da questo lato a sinistra Abbiamo il mondo del deserto Quindi abbiamo la salata dei livelli Abbiamo la zona della foresta Il deserto Boom Beach Clash Royale Zona innevata La zona della lava Quello che arriverà Halloween E accanto ragazzi Abbiamo le ranked Sono due modalità differenti E perché durante la beta Avete creato un gioco Che può funzionare E poi durante il lancio globale Mi scambiate tutte le cose Rendendolo Nanshkifo ragazzi Nanshkifes Hanno fatto tanti di quelli Un'altra cosa che mi piaceva tantissimo Della beta E che io spero raggiungeranno Ragazzi per favore raggiungete questa cosa qua Non so in quanti di voi Sanno che cos'è Ma questo qui È un po' in stile CTM di Minecraft Non so chi Chissà di cosa sto parlando Ma ogni volta che completavi Un mondo Quindi una volta che completavi Il mondo del deserto Il mondo della foresta Il mondo di Boom Beach Il mondo Clash Royale Lavica Neve e così via Davano una testa Da poter foggiare come premio E mettere come statua Ragazzi è bellissimo Ma vi prego Riaggiungete queste cose È una bella collezione Un bel flex Io boh ragazzi Vanno a peggiorare Di solito i giochi Vanno avanti Migliorano Si evolvono Squadbusters No va all'indietro Guardate che interfaccia utente che c'è Ragazzi Ma che è sto casino Da questo lato Ma stiamo scherzando E poi tutto spalmato in basso Come se non ci fosse un domani Non si fanno così Le interfacce grafiche Ragazzi non si fanno Va bene Tralasciando ciò Che poi manco si vede il nome In alto a sinistra Va bene Che poi lo spazio è gigante Potrebbero mettere di tutto Prima che mi nervosisco Ragazzi Facciamoci un game Io spero in un bel aggiornamento Di questo gioco Dove fanno le cose decenti Perché non ci vuole tanto Per migliorare Squadbusters Non ci vuole tanto Cioè sì Qualche cambiamento sostanziale Ci vuole Però piccolezze Tante piccolezze Che messe insieme Ti migliorano il gioco Digra Lunga Piaggia Spiritelli E tesoro Guardate roba Ovviamente ragazzi Se seguite Kiri Rimanete sempre aggiornati Tutte queste cose Cioè Kiri vi dice Quello che arriverà nel prossimo aggiornamento La data del nuovo aggiornamento Quello che cambieranno gigantesco Nei prossimi mesi Settimane Adesso parliamo di una cosa interessante Quando arriverà questo aggiornamento Quando è che metteranno Sta cosa assurda Beh ragazzi Probabilmente Vi dico Probabilmente Ci vorrà qualche mese Secondo me Potrebbe pure arrivare Questo aggiornamento Forse o a dicembre O direttamente il prossimo anno Perché a quanto ho capito È una cosa che vogliono migliorare Ma non c'è una fretta Così imminente E sappiamo che Nel prossimo aggiornamento Di quello che arriverà Tra 20 giorni Di questo Modifica Non ci sarà La minima ombra Quindi tra 20 giorni E l'aggiornamento di Halloween Non avremo niente Riguardo a questo A questo cambiamento Vabbè Ma ci può anche stare ragazzi Ci può anche stare Speriamo che però Aggiungano i clan Perché veramente senza clan Non so come Come può continuare il gioco Speriamo che aggiungano i clan Però fatti bene Che non è che fanno qualcosa In stile clash mini Che non si poteva fare niente In quei clan Comunque Riaggiungiamo tutto Fatto sta che clash mini Anche durante la beta Era meglio di squadbusters globale Poco da dire Poco da fare Poco da raccontare Andiamo giù Andiamo giù Cassettina Di bo Che può essere buono Ottimo Noi ci prendiamo tutti gli eregon Un altro spiritello qua da killare Perfetto Stiamo attenti a questo qui Mi piglio un po' di roba E ci scappiamo senza morire Ma mi hanno killato uno ragazzi Ma mi hanno killato uno Allora Andrei di un altro barbaro Facciamo una fusione Cerchiamo di farla Un minimo dai Prendiamoci qualche bot Un po' di gold Ce lo prendiamo Allora la cassa la possiamo già aprire Se fosse una cassa nelle vicinanze Siamo secondi ragazzi Secondo è quello lì Si chiama minestrone Come si chiama minnesota Minnesota Minestrone Non lo so Sto morendo Fatto sta che ho personaggi A tre di vita E no ragazzi Non si può campare così Ma manca a fare così Dai ti prego Dammi una cassa Ok la cassa è là sopra Se mi hittano Boh è finita ragazzi Se mi hittano Boh è finita Ok ho fatto la fusione giusto in tempo Ragazzi che goduria Allora Adesso fatemi fare la fusione Per fuori del barbaro Perché pure quello lì C'ha tre di vita in croce Scendiamo giù Scendiamo giù Ok c'è un team qua ragazzi Ma no mi hanno killato il barbaro Lo sapevo io Guardate che roba Un altro bofuso ragazzi Ma si può fare la fusione della fusione Dovrebbero metterlo ragazzi Fusione della fusione Sarebbe orribile No 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 Ma lo sai che è quasi quasi La mega fusione Ecco come potrebbero funzionare i mega La fusione della fusione Sono i mega ragazzi Vabbè niente Qua stiamo ipotizzando cose assurde Andiamo qua Forse magari Prendere delle monete Non le monete Gli anelli al centro Potrebbe essere una funzionalità Buona Io andrei di Jesse Torrettina qua Killiamo qualche cosa Senza morirci magari Meno male che c'è Nita Che ci fa un bello scudo Un bello scudo Nita ce lo fa Bene Po' di gold Là c'è un coso di neve Che voglio killare Siamo quinti ragazzi Qua tocca Tocca un attimo impegnarsi Di più Kiri Eh 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 Così mi deludi Qua c'è qualche bot L'amore di cinghiali Può essere molto molto Workone Bene Po' di gemmozze Andiamo a centrarli ragazzi Oh Sper che killo questo E sto killando un team ragazzi Sto killando un team Morgan No Morgan Che è un orso ragazzi Vabbè Facciamo finta di niente Posso killare sti boss Senza morirci magari 23 secondi Ghiaccio Ah facciamo tutto così Perfetto Io volevo prendermi Un anello ragazzi Un anello È fattibile come situazione O non è fatti Oh che è successo qua ragazzi 10 secondi E andare di Leon 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 Oh Un altro anello Un altro anello No torna invisibile Chi No ragazzi No ragazzi Non sono diventato più invisibile Vabbè siamo Ok siamo primi Scappa 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 Piedi del gold Va bene Va bene così Andiamo di Leon un'altra volta Diventa invisibile Kiri subito Devi resistere Dobbiamo resistere ragazzi Più a lungo possibile 14 secondi Vorrebbe proprio un altro Leon Andiamo di fuorileggia A sto punto ragazzi Fuorileggia Stiamo attenti a quel team che c'è là Mi piglio delle gemmozze Me ne salgo Belli invisibilini Non ci vede proprio nessuno Guardate che ero 3 2 1 Che win Che fa Kiri oggi Che partitozza Che primo posto 1200 di energia del portale Ve l'ho detto Basta giocare pure una partita al giorno Ragazzi Una partita al giorno e sali tantissimo Bene 32 energon Questi qua invece devo farmarli Perché non posso non portarmi il personaggio al 3 Vi ricordo Portateveli sempre al 3 E magari completate pure l'evento Non come fa Kiri Che si perde le modi con rare Vabbè Colt Coltino Noi ci giochiamo Missione Posso farla Ok missione fatta Pignatta Vabbè ragazzi Sto carriando la mia pignatta 3 colt baby 2600 di gold 20 ticket E un ticket De bieti e bavoli Va bene Cassettin Cassettin Cassettina rara Grandissima Va bene 9 furileggie Buone Carità Paoletto epico ragazzi Paoletto Ma quanti Bello questo epico grandissimo Soddisfa Mi fammi godere 8 maxin Accetto Mi va più che bene ragazzi Mi va più che bene Due upgrade Uno per la furileggie Ottimo E l'altro per Maximiliana Che possiamo pure fare un'altra evoluzione E portarci ben 3 super L'ultra sta arrivando Quanto ci manca per la prossima cassa Mamma ragazzi Però ste casse sono davvero Ci vuole un'eternità per aprire un baule del genere Brutta cosa Qua è da bilanciare un pochino Dettoci ragazzi Spero che questo video sia piaciuto Un bel like Iscrizione Campanile Nel video che si sono appena Nel suo canto Scrivete l'altro Fai la bambina Per supportarmi E ci vediamo nel prossimo video di Squadwars Ciao ciao